La mia scelta di candidarmi nasce, per chi mi conosce e per chi ancora non mi conosce, dall'impegno profuso negli anni sul nostro territorio, in favore delle fasce più deboli, della tutela dei loro diritti e delle innumerevoli iniziative poste in essere al loro beneficio. Ed anche per la voglia di un radicale cambiamento della nostra città. Gli obiettivi che mi sono prefissata per la mia candidatura sono principalmente improntati innanzitutto sull'accessibilità della nostra città, che molto spesso un diversamente abile, un anziano, è ostaggio delle innumerevoli barriere architettoniche presenti sul territorio. Una valorizzazione a livello turistico della nostra città, una città ricca di risorse, è lo snellimento della burocrazia che molto spesso vittimizza i nostri concittadini a lunghe attese, procedure impervie che negano loro il diritto fondamentale che è quello alla salute. Votare me per la mia esperienza istituzionale, seppur breve, per la mia conoscenza delle materie amministrative e per la mia passione per il sociale. Grazie a tutti! Grazie a tutti!